Tra poco arriverà un tiktoker a registrare qua in studio, quindi ho bisogno del massimo silenzio Tu smettila di applaudire E... tu smettila di suonare il piano in quel modo Allora bro, com'è? Sì, oggi devo tenere i miei fratellini qua in studio, è un problema se rimangono No, non è un problema Ok, cominciamo subito? Sono pronto quando vuoi Un cha-cha, passo le mie sere a fare un cha-cha Un amico del mie sere che fa un cha-cha Passano due anni e non torna papà papà Un cha-cha, niente che possiamo fare un cha-cha Cerco un mattimango per un un cha-cha Due anni e non torna papà Un cha-cha, passo le mie sere a fare un cha-cha